E' una prova di equilibrio, di padronanza di sé, di osservanza delle regole. Chi col proprio comportamento sa dare prova di tutto ciò diventa un esempio per i suoi ammiratori. E' quello che auguro ad ognuno di voi, di essere testimoni di lealtà, di onestà, di concordia e di umanità.